Questa è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e in queste sere durante la messa vespertina delle 17.30 stiamo ascoltando le prediche di Monsignor Robert Popa, quest'oggi in studio con noi. Benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito, sacerdote della Chiesa Greco-Cattolica e cappellano della Comunità Romena Greco-Cattolica di Milano. e siamo collegati via Skype con Sua Eccellenza Monsignor Virgil Bercia, vescovo di Oradia in Romania. Spero di aver centrato l'accento del suo paese, eccellenza. Lo pronunci lei esattamente. Molto bello. Ecco, bello. Corretto. Buonasera. Buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, io partirei da Monsignor Bercia in collegamento Skype con noi. Qual è il senso della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani? O più semplicemente, se volessimo spiegare alla signora che tutte le sere partecipa alla messa, qual è il significato di questa settimana? Perché si festeggia? Perché si celebra questa settimana? Prima di tutto, non dobbiamo dimenticare ciò che ha detto ieri il Santo Padre, che l'internet e tutto quanto, la comunicazione telematica, eterea è un dono di Dio. Vedete che si realizza stasera con voi il dono di Dio. Dall'altra parte, per quanto riguarda la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, sì, è una settimana che si celebra ogni anno, ma siamo tutti chiamati affinché tutti siano una, ma il Signore, il Signore è il comandamento del Signore che ci sprona a camminare su questa strada. È fondamentale di pregare ogni giorno e specialmente in questi giorni per l'unità della Chiesa. Il Signore è uno solo, noi l'abbiamo diviso e dobbiamo credere che sarà Lui nella potenza dello Spirito Santo lavorando per trappi degli uomini che ricreerà l'unità della Chiesa. Monsignor Bercia, qual è l'attuale situazione della Chiesa greco-cattolica in Romania? Ecco, noi veniamo dopo un periodo di persecuzione molto dura contro la nostra Chiesa. Sicuramente che molti di voi lo sapete, conoscete il periodo del comunismo quando la nostra Chiesa è messa fuori legge. Adesso, da quasi 25 anni, viviamo comunque nella libertà. Una libertà, direi, assai sofferta, ma comunque liberi e possiamo esprimerci, possiamo vivere liberamente in Romania, in Europa. Abbiamo riaperto le scuole, i seminari, le chiese, io potrei dire che fioriscono. Ringraziamo il Signore che in questo contesto, in quale quasi tutto non ha niente più senso, ci sono anche dei punti fermi sui quali si può puntare. Questi sono i nostri martiri da una parte, ma dall'altra parte vi dico che abbiamo dei giovani e gente molto brava su quale possiamo puntare. Per questo dico che ci sono punti fermi. Monsignor Bercia, sappiamo che lei ha una storia particolare, in quanto è stato ordinato clandestinamente. Ci vuole raccontare la sua storia, la vuole condividere con noi. Vabbè, erano i tempi così. Qualche volta penso che anche io che non sia vero, ma dall'altra parte è vero. Sì, a quel tempo la nostra Chiesa, come vi dicevo prima, era fuori legge. Praticamente non esisteva. Erano già finite le carceri, perché nel 1964 tutti i sacerdoti, i vescovi che sono rimasti ancora in vita, che non sono morti nelle carceri, sono usciti fuori dalle carceri alle pressioni dell'Occidente. Allora, noi abbiamo avuto tanti, sono almeno sette vescovi che sono, c'è il processo di beatificazione, morti nelle carceri, poi tanti sacerdoti fedeli, laici. C'è stata una grande sofferenza. Quando io avrei dovuto andare in seminario, comunque non c'era dove, io sono di formazione ingegnere agrario, e contemporaneamente, nello stesso tempo, ho studiato anche la teologia, con i nostri ex professori di una volta, usciti dalle carceri. Ma era molto delicato il problema, era molto pericoloso, perché la polizia secreta era sempre sulle orme dei greco-cattolici, e in ogni momento potevi essere anche arrestato, anche messo nelle carceri. Non è successo. Sono stato, allora ho finito l'università, e ho finito anche gli studi di teologia clandestinamente, ho iniziato di lavorare in un istituto di ricerca per la biologia delle piante, e sono stato ordinato sacerdote clandestinamente. In un pomeriggio d'inverno, dopo che avevo finito il mio lavoro, sono andato nella città del Vescovo, anche lui aveva fatto 16 anni di carceri, ha chiuso la porta dietro di me, ha coperto le finestre, alla mia ordinazione erano soltanto sei persone, il Vescovo, due sacerdoti, una sora, una signora laica, tutti, tutti furono nelle carceri. E io? I miei genitori hanno saputo che sono sacerdote dopo nove anni. quella serata il Vescovo mi ha detto non ho niente da darti. Né parrocchia, né paramenti, né meno un qualice o una patena. Invece ti chiedo di morire per il Signore e per la Chiesa, se lui te lo chiederà. nella stessa serata sono ritornato a casa e la seconda giornata ho celebrato la mia prima Messa solo in una piccola stanza in ginocchio sulla terra. Sono stati quei tempi, adesso c'è una... ogni volta quando io ordino uno dei miei sacerdoti mi vengono in mente queste cose e sono molto conosso sempre, ogni volta. Ma il Signore vedo che mi ha chiesto di morire per lui in un'altra maniera. Quello che faccio oggi credo che un morire ogni giorno per lui. Per tutto dobbiamo ringraziare il Signore, veramente, che noi se guardiamo con attenzione nella nostra vita ci rendiamo conto che praticamente è lui quello che lavora nelle nostre vite e lui ci prende per mano. Quante volte avrei potuto essere anche io arrestato, messo via dall'ufficio e non è successo mai. Ho celebrato la Messa clandestinamente tantissime volte nelle famiglie e così e nessuno mai mi ha tradito. Anche questo è un fatto molto... Anche questo è molto bello, molto importante il rapporto con la gente che è riuscito a instaurare. Clandestinamente ho fatto matrimonio, ho fatto battesimo, ho fatto catechesi con i bambini, con... Monsignor Bercia, qual è il rapporto anche con le altre confessioni? Sa, cerchiamo, cerchiamo veramente, anche qua da noi adesso abbiamo insistito molto e siamo anche noi in una settimana di preghiera e ogni sera andiamo in un'altra comunità. Siamo, a dire vero, io sono molto contento che c'è un gruppo proprio dei nostri laici, greo-cattolici, che si sono impegnati e hanno organizzato prima, dall'inizio di novembre, si sono incontrati loro e hanno organizzato ogni sera di andare in un'altra comunità. Sì che tutta la settimana siamo in un'altra comunità. Si è iniziata con i romano-cattolici, poi con i protestanti di antica data, poi ci sono i neo-protestanti, anche con gli ortodossi e si cerca di creare comunque qua da noi abbiamo un'altra realtà. Viviamo cristiani di diverse confessioni da tanti, da secoli ormai. Sì che un po' di tolleranza si è imparata, un po' di sopportarci a vicenda, poi dopo abbiamo le famiglie miste, tantissime, e nelle famiglie io dico che lì si è creata già l'unità, non ci sono dissensi, non ci sono problemi, la vita è andata avanti, dobbiamo un po' imparare dalla vita delle famiglie come si vive nella famiglia, la chiesa è una famiglia più grande. È vero, è così. Monsignor Bercia, concludo ringraziandola per essere stato in collegamento con noi ospite di Padre Pio TV, ma sappiamo che lei è anche un grande devoto del Santo di Piazzini. un grande devoto e non dopo la caduta, sapevamo del Padre Pio anche prima, prima della caduta del regime e poi dopo ho avuto la gioia di andare quando era Monsignor D'Ambrosio vescovo là, con lui sono andato alla tomba di Padre Pio e sono un grande devoto, ce l'ho nel mio studio e ce l'ho Padre Pio nella mia stanza dove celebro ogni giorno, nella mia cappellina, direi come volete perché è tutto lì. Sa che Padre Pio ha vissuto anche per un periodo della sua esistenza un periodo di segregazione, quindi anche lui celebrava nel Sacellum da solo, lontano, ecco, dal popolo di Dio. Ma che grande umiltà ha accettato tutto e un modello per tutti noi, tutti noi, iniziando dai vescovi e dal Papa di come si deve comportare nella Chiesa con l'umiltà e adesso il Santo Padre ci dà proprio l'esempio. Ma Padre Pio ripeto per me è un grande modello e io sono un suo figlio. Grazie, grazie Monsignor Virgil Bercia per essere stato con noi in collegamento Skype. Grazie ancora e rimaniamo in comunione di preghiera. Noi pregheremo una preghiera lì alla tomba di Padre Pio. Non mancheremo sicuramente, grazie. Un abbraccio a tutti voi. Grazie, a presto. Buona serata. Bene, Padre Robert, è inutile che le nasconda la mia profonda commozione soprattutto quando Monsignor Bercia ci ha raccontato del fatto che sia stato ordinato sacerdote clandestinamente. la sua terra d'origine appunto che è la Romania è universalmente nota per aver assorbito uno dei più feroci regimi comunisti. Anche la sua vocazione è immagino nata, germogliata in questa situazione, in questa realtà molto difficile. Infatti, vede sentire il nostro Vescovo parlare così penso che provoca commozione in ogni persona. Anche se io sono comunque molto giovane ero un bambino quando è caduto il regime comunista però mi ricordo perfettamente la situazione sociopolitica e anche religiosa. è vero la mia vocazione al sacerdozio è nata proprio negli anni in cui nell'adolescente nasce questo desiderio di vivere perché non l'immensità perché a quell'età penso che ogni adolescente prova emozioni fantastiche. Ecco, io ho avuto la fortuna di avere accanto persone che hanno saputo implementare nella mia mentalità e nel mio modo di essere un certo stile e poi la grande fortuna è stata quella di leggere all'età dei 15 16 anni alcuni libri dei nostri dei nostri martiri e leggendo tutto ciò ovviamente penso che il Signore lavora anche attraverso questi piccoli gesti. non posso sostenere che è una mia scelta ma sempre penso che è una scelta del Signore e umilmente mi considero uno scelto dal Signore. È chiaro che leggendo queste testimonianze e incontrando persone che hanno vissuto e hanno testimoniato continuamente anche questa unità della Chiesa attraverso il proprio sangue perso che è una garanzia per una vita sacerdotale così spero così come il Signore la desidera. Lei oggi ha portato con sé un libro l'opera di il Signore Ioan Ploscaru intitolato Catene e Terrore che è stato pubblicato dalle Deoniane 2013 un vescovo clandestino greco cattolico nella persecuzione comunista in Romania Qual è la storia di questo vescovo? Sono le memorie di un vescovo clandestino sono le memorie soprattutto lo dico ecco come base come principio questo uomo in questo libro non giudica nessuno ma semplicemente racconta avvenimenti racconta fatti e racconta in tantissime pagine una storia di santità certe volte anche in un modo proprio così senza rancore e penso che la santità consta proprio in quello non solo di essere umili ma di accettare i fatti e di poterli leggere alla luce dello spirito così come sono stati e anche se ci sono state persone o fatti o momenti crudeli e terribili ecco poterli raccontare con serenità con serenità sono straordinarie le pagine in cui lui racconta i momenti in cui è stato rinchiuso in una cella la nera si chiamava così nel carcere di Siget praticamente una 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 stanzina alta poco più di un metro e venti buia dove d'inverno le buttavano anche qualche secchio d'acqua così ecco vede sono testimonianze di santità soprattutto così come testimonianze di santità sono quelle dei vescovi della chiesa greco-cattolica di Romania morti sotto il regime comunista sono sette ed è in corso il processo di beatificazione per tutti per tutti e sette tra i quali c'è anche il cardinale allora in pectore Julio Hosu fatto cardinale da Paolo VI questo esprime per tutti noi una gioia enorme non dimentichiamo che queste persone sono diventate io dico martiri addirittura venerabili proprio non perché sono stati chiamati a negare il cristianesimo ma semplicemente per cambiare la confessione e lo dico non siamo qui per giudicare nessuno perché il Padre misericordioso saprà giudicare ciascuno di noi secondo il suo amore ma siamo qui proprio di parlare di loro e di renderci conto che la bellezza di questa chiesa cattolica di questa chiesa universale consta proprio anche in questo nell'essere diversi come rito ma uniti sotto la stessa guida del Vescovo di Roma Padre Robert lei è cappellano della comunità romena greco-cattolica di Milano come come vive il rapporto con la gente quotidianamente? Vede l'impegno di un cappellano per una comunità etnica è un impegno anche strano perché purtroppo si fa fatica si fa fatica ad avere o meglio a fare un progetto pastorale poi una parola o parole molto belle ma alla fine bisogna lavorare tanto proprio per trovare certe volte queste pecorelle ma è bellissimo è bellissimo e quando arrivai a Milano una delle prime persone che ho incontrato mi ha dato una carica e una forza fantastica e questa dicendomi sa padre quando mi hanno battezzato i miei genitori mi hanno portato in una foresta per essere battezzato da un nostro sacerdote ovviamente clandestino è vero non è sempre non è sempre facile ma ti accorgi soltanto nel momento in cui si sta con la gente quanto è importante la nostra presenza qui siamo ovviamente integrati in questa cappellania generale dei migranti ma è bello perché ognuno può mantenere le proprie tradizioni le proprie il proprio modo di pregare eccetera però questo non vuol dire rinchiudersi nel proprio clan mai per esempio cerchiamo anche dal punto di vista socioculturale essere presenti a testimoniare le nostre bellezze a promuovere ciò che ci sta a cuore e vi garantisco che le nostre persone i nostri fedeli almeno coloro che frequentano la nostra comunità sono integrate benissimo nella società italiana ecco per cui è vero che tanti giornali cercano di dire il contrario io dico ci sono casi e casi e poi vi dico che il periodo più bello ma davvero più bello dell'anno pastorale è proprio quello da Natale all'Epifania perché per noi il momento in cui e anche dopo l'Epifania i sacerdoti fanno le benedizioni delle case le visite alle famiglie e lì veramente si sperimenta la vita di questi migranti che non è facile che non è facile però ve lo dico col cuore è il momento forse più bello dell'anno diciamo sì il periodo tra l'avvento del nostro periodo di Natale sì tornando alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo che stiamo vivendo ormai è arrivata appunto alla conclusione qual è il filo conduttore che l'ha accompagnata ecco in queste giornate di predicazione a San Giovanni Rotondo perché abbiamo visto che è stato affiancato lei appunto a lei è il momento dell'omelia poi al sacerdote il resto certo vede già il brano scelto dalla prima lettera ai Corinzi di Paolo capitolo primo versetti 1 17 sono straordinari io penso che già semplicemente fare una lezione su quel brano apre davanti a noi una strada fantastica poi il tema è Cristo non può essere diviso è chiaro che ho cercato fin dal primo giorno di mantenerci sul sul come possiamo diventare uno in Cristo o meglio le modalità avevo detto e lo ripeto anche in questo momento che il primo passo è quello del capire capire però nello stesso momento se stessi e io penso che il primo passo è quello di capirsi come cristiano come chiesa e l'altro passo è quello di capire l'altro non è facile non è facile e poi penso che il peccato che purtroppo compiamo è quello del pregiudizio del pregiudizio ecco forse il lavoro da fare in questo periodo è anche quello di sconfiggere i nostri pregiudizi e poi il secondo il secondo passo che mi sembra molto importante è quello del farsi capire perché tante volte diamo per scontato no farsi capire e farsi capire come ci hanno aiutato in questo tema anche i nostri fratelli del Canada nei doni nei doni soprattutto sperimentare i doni spirituali è un fatto molto importante non dimentichiamoci della visita in Romania del beato Giovanni Paolo II quando tutta la folla dove erano ortodossi tantissimi ortodossi cattolici di entrambi i riti che gridavano insieme unità unità io spero che quella parola rimanga ancora un eco per la storia della Chiesa per la storia anche sociale non per forza sociopolitica dell'Europa e poi in tutto in questo cammino è importante trovare il terzo passo molto importante in questo farsi capire il brano ci dice che dobbiamo essere capaci di riconoscere le divisioni cioè rendersi conto che qualcosa non va nella propria comunità questo si sperimenta dal mio punto di vista soltanto nella preghiera e soltanto ascoltando veramente ciò che lo spirito ci dice per concludere poi tutto quanto nel dialogo che il dialogo non è facile non è facile prima di tutto penso che il dialogo è nel dialogo fa parte anche l'incontro anche visivo mettersi mettersi proprio così con umiltà con tanta libertà del cuore a portare qualcosa a termine padre Robert io la ringrazio per essere stato con noi per aver trovato un po' di tempo da dedicarci in questi giorni le assicuriamo preghiere così come anche noi chiediamo a lei e alla sua comunità di pregare per noi dobbiamo rimanere uniti specialmente nella preghiera nella preghiera e anche nel desiderio comunque di come dicevo prima di portare a termine le cose con con semplicità con umiltà chiaramente come dicevamo nella preghiera grazie padre Roberto Popa per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi